È un territorio che è di paura, l'ha vissuta dal 20 febbraio e fa male troppa paura a un certo punto, bisogna reagire. La nostra gente ha bisogno di poche cose, ha bisogno di vicinanza. La vera giustizia è quella di chi difende la qualità della vita degli altri. Puoi sostenere Don Antonio, Don Matteo e altri 34.000 sacerdoti che ogni giorno dedicano il loro tempo a chi ha bisogno. Anche a te. Scopri come su insiemeisacerdoti.it Grazie a tutti.